Ben tornato Goodler, ben tornata. In questa nuova lezione andiamo a parlare di una informazione relativa al sistema. A cosa serve? Naturalmente a visualizzare un riepilogo delle informazioni sul computer, a modificare le impostazioni per l'hardware, le prestazioni e le connessioni remote. Alcune di queste opzioni già sono state trattate, ma vediamo cosa apporta di nuovo questa lezione. Come accedi? Naturalmente cliccando sul pulsante Sistema presente nel pannello di controllo. All'apertura visionerai alcune sezioni, la versione e l'edizione del sistema operativo, informazioni sulla RAM e sul processore in termini di tipologia e velocità, quanta RAM come dicevamo, il tipo di sistema operativo se è 32 e 64 bit, un'altra sezione relativa al nome e la descrizione del computer o eventualmente del gruppo di lavoro ed infine lo stato di attivazione e numero di serie e il logo originale. Ci sono altri pulsanti sul lato destro e sul lato sinistro che permetteranno di eseguire altre opzioni. Infatti sul lato destro trovi il pulsante cambia impostazioni. Da questo pulsante accedi ad altre informazioni che comunque puoi sempre raggiungere con gli altri pulsanti che sono posti alla sinistra della sezione e sono gestione dispositivi, impostazioni di connessione remota, protezione sistema e impostazioni di sistema avanzate. Per la prima sezione ti rimanderei alla lezione 111 e al rispettivo video tutorial. Nella seconda sezione è possibile ottenere assistenza a distanza in modo da poter comunicare con un altro computer attraverso il firewall di Windows, firewall che tratteremo più avanti. Per attivarla una volta che hai raggiunto la sezione inserisci la spunta, consenti connessioni di assistenza remota al computer e poi clicca su ok. Ovviamente è necessario autorizzare la connessione per il controllo a distanza e per consentire ciò ad un altro utente di connettersi con il proprio PC puoi utilizzare una funzionalità integrata in Windows chiamata desktop remoto, ma non è soltanto questa l'unica possibilità. Nella sezione appunto trovi alcune selezioni che puoi impostare consentendo o meno l'accesso al desktop remoto in base anche al tipo di sistema operativo che viene utilizzato. Alcuni sistemi operativi utilizzano una connessione con autenticazione a livello di rete più sicura. È il caso delle ultime versioni del sistema operativo della Microsoft. Accederai tramite questo pulsante a un'ulteriore sezione. Eseguito ciò naturalmente devi andare a pescare, a selezionare praticamente l'utente a cui concedi l'accesso remoto tramite il pulsante omonimo, quindi seleziona utente e potrai aggiungere o rimuovere eventualmente quelli presenti effettando una ricerca in base dei parametri filtro tra quelli connessi alla rete selezionando l'uno o l'altro utente. Qui trovi altri due pulsanti. Questi due pulsanti sono utili per poter accedere alla guida in linea Microsoft in modo da poter migliorare le conoscenze in ambito di questa sezione, quindi informazioni su assistenza remota o suggerimenti per la scelta riferita al desktop remoto. Il terzo pulsante della sezione in alta a sinistra è protezione sistema che ti permetterà di accedere a questa sezione in relazione al ripristino configurazione sistema e dato che è stata trattata nella lezione 122 e al rispettivo video ti rimando a questa sezione. Troverai anche altri pulsanti che ti permetteranno di accedere a nuove sezioni. Cosa esegui il ripristino configurazione sistema? già lo saprai ma è meglio ribadire alcune cose. In pratica saltoramente il sistema salva informazione relativa alle impostazioni e ai file di sistema in dei punti di ripristino a cui puoi tornare nel caso si presentino dei problemi. Puoi anche creare manualmente un punto di ripristino cliccando sul pulsante crea e inserendo il nome per una sua identificazione. Come detto c'è un altro pulsante configura che ti apre una nuova sezione nella quale potrai gestire alcuni parametri del ripristino come attivarlo o meno e selezionare lo spazio da dedicare a questa opzione da parte del tuo disco rigido a ripristino configurazione sistema o eliminare anche i punti creati fino a quel momento. Con l'ultimo pulsante della sezione accedi alle impostazioni avanzate del sistema che ti permetteranno di accedere ad ulteriori opzioni come in questo caso gli effetti visivi. Focalizza comunque per quel che mi riguarda la tua attenzione sulla sezione prestazioni e avvio ripristino. Tramite i pulsanti impostazione e in questa sezione accederai a nuove sezioni come in questo caso per regolare gli effetti visivi del tuo monitor, del tuo desktop oppure nel secondo caso accedi a una nuova sezione che ti permetterà di selezionare il sistema operativo predefinito qualora avessi installato più di un sistema operativo nel tuo computer. Oltre alla scelta del sistema operativo trovi altri due pulsanti che sono dei segni di spunta che ti permetteranno di visionare la lista e il numero di secondi per operare la scelta e selezionare eventuali opzioni di ripristino per un determinato numero di secondi. Questo se il sistema operativo non dovesse avviarsi quindi avrai la lista delle opzioni di ripristino presentata a monitor in fase di avvio. Nella sezione errori di sistema trovi un altro segno di spunta. Scrivi l'evento nel registro eventi del sistema che consentirà così al sistema operativo di memorizzare tutti gli eventi occorsi nel suo utilizzo al fine di poter consultare questa lista per eventuale diagnosi di futura. C'è un ulteriore segno di spunta riavvia automaticamente che se impostato riavvierà il sistema operativo qualora si verificassero dei problemi ad esempio le schermate blu ma io personalmente lo deseleziono in modo da poter leggere il feedback che mi fornirà il sistema operativo qualora si dovesse riavviare perché ha presentato dei problemi. Un modo per individuare il problema per diagnosticarlo in pratica. Altre impostazioni comunque le tralascerei in quanto troppo spinte a questo livello. Nella sezione proprietà del sistema trovi però altre due sezioni e sono nome del computer e hardware. In pratica in questa sezione trovi evidenziato il nome del computer che potrai anche cambiare e anche la sezione che ti permetterà di accedere a gestioni dei dispositivi cosa già trattata nella lezione 111 e il rispettivo video tutorial. Inoltre tramite il pulsante impostazioni installazione dei dispositivi potrai decidere in che modo scaricare ed installare i driver del dispositivo che andrai di volta in volta a installare. In pratica potrai decidere se eseguire automaticamente il download dei driver e delle icone oppure scegliere di volta in volta in base al tuo piacere, alle tue necessità. eccoci Google nella parte pratica. Accediamo al pannello di controllo e al pulsante sistema. Come puoi vedere in questa sezione si presenta l'edizione di Windows, il tipo di processore che è in uso su questo computer, quanta RAM e il tipo di sistema operativo, nome di computer e il nome del gruppo di lavoro e infine l'attivazione e il numero di serie del sistema operativo con il logo originale. Tramite il pulsante cambia impostazione puoi accedere ad una nuova sezione sezione che puoi comunque andare anche a visionare da questi pulsanti. Vediamo la prima sezione appunto gestione dispositivi che già abbiamo trattato nelle lezioni precedenti. Il pulsante impostazione di connessione remota ti permetterà di scegliere se attivare o meno la connessione di assistenza remota in modo da poter ricevere assistenza remota per il tuo computer. Cliccando sul pulsante avanzate potrai anche impostare dei limiti per cui concedere l'assistenza remota in termini di ore oppure in termini di minuti o giorni. Infine potrai anche decidere se far accedere al tuo computer tramite il programma integrato in Windows desktop remoto selezionando una di queste opzioni. Una volta che avrai deciso se o meno consentire l'accesso tramite il desktop remoto dovrai andare a selezionare gli utenti. In questo caso io non ho una rete per cui potrai decidere di aggiungerne qualcuno e andare a individuarli se all'interno della tua rete è presente questa possibilità. Cliccando sul pulsante esempi potrai avere in visione una descrizione per meglio comprendere cosa rappresenta questa sezione. Tramite il pulsante avanzate potrai ottimizzare la ricerca degli utenti che ti permetteranno di attingere a questa risorsa e qui dalla lista puoi selezionare chi eventualmente potrà fornirti assistenza al computer. Altra sezione è protezione del sistema ma puoi accedere tranquillamente anche da questa sezione con la quale potrai decidere di avviare il ripristino configurazione sistema o creare un ripristino manuale oppure configurare alcune opzioni del ripristino come disattivare oppure attivare il ripristino e decidere quanta memoria dedicare alle opzioni di memorizzazione dei punti di ripristino. Annulliamo questa opzione e andiamo a vedere l'altro pulsante di impostazioni di sistema avanzate che ti permetterà di impostare tramite questo pulsante la qualità degli effetti visivi per rendere un po' più bello o più rapido il tuo computer in base alle tue necessità. Queste altre opzioni per il momento le tralascerei oppure andare ad individuare alcune impostazioni di avvio e ripristino. In questo caso potrai decidere di selezionare quale sistema operativo è principale tra quelli installati, in questo caso puoi vedere ho due versioni di Windows, Windows 7 e Windows 8. Una volta che avrai deciso quale dei due individuare potrai anche impostare il numero di secondi che in fase di avvio ti mostrerà la lista di questi due sistemi operativi in modo da poter scegliere eventualmente il secondario qualora non volessi avviare il primario oppure visualizzare le opzioni di ripristino per un tempo che puoi variare a tuo piacere qualora si presenti la necessità in fase di avvio perché magari il sistema operativo non si è avviato correttamente. Il segno di spunta scrivi l'evento nel registro di sistema ti potrebbe tornare utile in modo da visionare eventuali problematiche, in questo modo il sistema operativo regisserà nel registro degli eventi tutti gli eventi che occorreranno al sistema operativo e infine per questa sezione togliendo il pulsante riavvia automaticamente in caso di problemi avrai l'opportunità di visionare e leggere eventualmente il problema segnalato dal sistema operativo senza che esso si riavvii non consentendoti la lettura della schermata che normalmente si presenta quando c'è un problema. In questa sezione proprietà del sistema sono rimaste due sezioni relative al nome di computer che ti permetterà di scegliere il nome del computer e il gruppo di lavoro, potrai cambiare in questo caso tramite questo pulsante il nome del computer ed eventualmente il gruppo di lavoro ricordandoti però che se il computer fa parte di un gruppo di lavoro variare questo parametro ti comporta la uscita dal gruppo stesso in quanto non più riconosciuto. Ultima sezione hardware ti permetterà di andare ad individuare i dispositivi presenti sul tuo computer oppure impostare alcuni parametri per l'installazione dei vari dispositivi quindi scegliere eventualmente di scaricare automaticamente i driver e icone per i dispositivi che andrai ad installare oppure chiedere di volta in volta le opzioni per l'installazione dei driver stessi. Eseguita la scelta clicca pure sul pulsante salva per memorizzare e attivare le varie opzioni. Ci leggiamo ancora nella prossima lezione per nuove informazioni sul pannello di controllo. Ora un forte saluto, ciao a presto, da caldo e dalla prossima!